rieccoci ragazzi bentornati a tutti sul canale di nico in game finalmente siamo qui su stray lo aspettavo davvero da tanto tempo questo gioco fin dal suo annuncio mi aveva affascinato mi aveva colpito particolarmente guardate il gatto come ci guarda è fighissimo ragazzi cioè io amo alla follia i gatti e gli animali in generale i cani eccetera però c'è questo gioco quando l'hanno annunciato ragazzi detto deve essere una figata pazzesca noi che impersoniamo un gatto randaggio che praticamente in questo in questo mondo cyberpunk in questa cyber città dove praticamente il micio deve se non sbaglio deve cercare di tornare dalla sua famiglia è una cosa fighissima io ragazzi direi di non perderci in troppe chiacchiere scopriamo insieme questo stray e iniziamo questa nuova interessantissima avventura vai allora e se lotto uno a Fighissimo Questa è la nostra famiglia? No È troppo bello ragazzi No che figata Sembrano dei gatti veri C'è qualcosa tra di noi vero? Ok ci siamo fatti le coccole Abbiamo giocato Ci siamo anche fatti una slinguazzata Una lavata Riposiamo Dormiamo ragazzi Dormiamo ragazzi Grazie a tutti Dentro le mura Beh ragazzi I movimenti dei gatti Sono veramente fatti bene C'è anche da dire che Per essere fedeli Proprio a tutte le movenze Del protagonista Hanno usato un gatto vero ragazzi E questa cosa è bellissima È una figata pazzesca Anche i suoni E tutto il resto Cioè È qualcosa di assurdo Io Esploro un po' È bellissimo Sì sì Arrivo Possiamo miagolare a comando Beh ragazzi Il gioco dell'anno Questo è il gioco dell'anno Altro che è il del ring È questo il gioco dell'anno Ragazzi Cioè Ma stai scherzando C'è sembra una stronzata Ma è una cosa bellissima Bellissimo Oh Anche io Anche io Anche io Ci facciamo un po' le unghiette Così Scusa albero Prima Ah sì ok Scusa albero Tra l'altro So anche Che Il gioco Ha un sacco di collezionabili Per il momento Non ho ancora visto niente Non ho ancora trovato niente Oh 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 si si arrivo oh oh è la tac e opla ma aspettate un attimo ah da qui si risale scivoliamo ma siamo sicuri che che non è pericoloso ecco secondo me è pericoloso ragazzi micci ma noi siamo agili resisti no 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 Grazie a tutti.